...di andare avanti. Grazie. 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 Love you. Grazie. 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 Giusti 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 dietante Giusti 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 Gamma Ce mot de chocolata We are Lady Marbolla Voulez-vous toucher avec moi ce soir? Voulez-vous toucher avec moi? Voulez-vous toucher avec moi ce soir? We are Lady Marbolla Voulez-vous toucher avec moi ce soir? Avete sentito che meraviglia di voci? Sono così felice di averla avuta al mio fianco durante queste quattro puntate Che ho proposto loro di seguirmi in tournée nel mio spettacolo Che debutta fra una settimana a Napoli E loro credo, mi auguro e spero di cuore che abbiano detto sì Genni B, Sivora Bencini, Linda e Silvia Mezzanotte Grazie Grazie A voi Grazie Grazie